Ossidiana e Kitchen hanno bisogno del vostro sostegno. Ebbene sì, abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi a supporto di questo spazio e della futura riapertura delle attività. Se in questi anni gli spettacoli e Kitchen e i corsi di Ossidiana vi sono piaciuti o vi hanno dato qualcosa, forse volete fare anche voi una donazione per aiutarci a riprendere le attività quando sarà possibile. Ogni contributo è prezioso e ci permetterà di guardare al futuro con ottimismo e programmare una bella nuova stagione. Sarà comunque vitale per noi, come per tutti i teatri, tornare a riempire le sale, tornare a vedere gli spettacoli e a frequentare le attività culturali dal vivo, incontrandoci di persona. Finora ci avete sempre sostenuti con la vostra presenza e con il vostro affetto. Ora, in attesa di riavervi qui al Kitchen, vi chiediamo di continuare a sognare assieme a noi e di sostenerci.